I volontari del 118 della Puglia sono sul piede di guerra. Basta con il clima di confusione che da tempo regna sovrano, gridano a gran voce, e lanciano un ultimatum alla regione. Nel giro di 45 giorni si dovrà definire il futuro del sistema 718 per mettere ordine una volta per tutte, sia sul piano dell'assunzione dei soccorritori che sulla gestione dello stesso piano da parte delle ASL. Un ultimatum che i volontari non intendono far prolungare. In una nota, infatti, dichiarano che se, allo scadere del 45esimo giorno, la regione non si sarà adoperata per le associazioni, si autoescluderanno dalla gestione delle postazioni a loro affidate. Inoltre, i volontari del 118 sono fermi su un altro punto. Chiedono, infatti, di avviare il procedimento di riforma della legge regionale sull'autorizzazione al trasporto e soccorso, insieme alla definizione del tarifario regionale per i trasporti secondari e non d'urgenza, così come avviene in tutte le altre regioni d'Italia. Insomma, il 118 di Puglia attende risposte certe e non esclude una manifestazione di protesta che coinvolgerebbe tutte le associazioni di volontariato che operano nell'area sociosanitaria. Una presa di posizione che segue l'appello lanciato dal presidente del Consiglio regionale Onofrio in trona per un confronto serio e costruttivo tra la regione e le associazioni convenzionate con l'assessore a ramo Elena Gentile.